diretta benvenuti alla ennesima diretta siamo su biobonsai un gruppo di appassionati bonsai che fa che si dedica ma dei peli neri che si dedica non li ho tagliati qui allora biobonsai un gruppo che si dedica la coltivazione di bonsai ma anche di piante in genere che noi facciamo piante di compagnia anche col prezzemolo chi se ne frega così lo usi anche in cucina e quindi bisogna fare biologico così quello che tagliamo dalle nostre piante possiamo anche mangiarlo no quindi può capitare sto scherzando ovviamente però facciamo bio io sono un estremista del bio è qualche anno che non utilizzo neanche liquido gin nulla quindi baso tutto sulla osservazione cerco di fare una coltivazione che sia più precisa e migliore possibile cosa significa che significa che una pianta che ha un vigore molto alto difficilmente avrà problemi nella nella sua vita quindi il tutto deriva non solo dalla nostra abilità nell'anaffiare momento giusto concimare dalle concime giusto il tipo di acqua e anche il tipo di terra è fondamentale quindi io sono riuscito a fare questo tipo di coltivazione nel momento in cui ho iniziato a coltivare con la bardula quindi ho iniziato a coltivare in bardula e pian piano ho visto che la coltivazione per quanto mi riguarda era molto molto semplificata quindi ragazzi il discorso non è che io consiglio bardula perché la vendo esattamente l'opposto io siccome siccome ho trovato che sia una gran cosa allora l'ho testata l'ho provata e l'ho consigliata poi le persone hanno iniziato a chiederla in acquisto e ho deciso anche di venderla quindi esattamente l'opposto quindi quello che faccio adesso dire usa bardula non è perché la vendo se fosse meglio la pomica o la cadama in un gruppo di 3 mila persone direi usa ciò che è meglio ciò che io penso sia meglio ok quindi parliamo di piante in vaso coltivate in bardula sai quindi se io facessi vivaio sarei pazzo ad utilizzare bardula costerebbe troppo utilizzi utilizzerei un materiale di riempimento qualsiasi esso sia il più economico possibile perché quando fai vivaio ti serve un materiale per riempire il vaso dove le piante radichino poi clienti acquistano e piantano in giardino o piantano in un altro vaso e questo è un discorso che ci sta con l'economia ok se noi invece abbiamo delle piante che dobbiamo mantenere nel vaso dobbiamo gestirle al meglio allora il mio ragionamento è che non voglio avere problemi più piante o e più un piccolo problema diventa moltiplicato per mille piante quindi se ho un problema su una pianta e vabbè c'è un problema su una pianta ma se lo stesso problema l'ho per moltiplicato per mille piante ma anche per 10 ma anche per 5 perché non togliere questo problema soprattutto nel caso di piante a cui noi teniamo e vorremmo che stessero con noi tutta la vita quindi se noi impariamo a gestire perfettamente la coltivazione delle nostre cinque dieci cento mille piante non dovremmo mai mai escogitare delle furbe delle furbate andando a spruzzare degli aiuti quindi sono degli aiuti quindi sono degli aiuti chi li chi li utilizza io lo dico per certo al cento per cento che li utilizza come aiuti e quindi non si impegna tra virgolette abbastanza nella coltivazione mi è stato detto anche che è massa io poca luce è massa io poco sole ma io tanto di questo poco di quell'altro allora io se abitassi al nord non coltiverei olivastri se abitassi al nord in una zona fredda adatta all'arici coltiverei solo l'arici è semplice penso io poi uno può far quello che vuole però è fondamentale coltivare le varietà che noi vediamo nella nella nostra zona che siano piantate in città e vediamo che crescono bene quindi esemplari che stanno in città da anche da cento da duecento anni e sia nelle colline o montagne nei dintorni non troppo in alto rispetto dove stiamo noi quella è un'ottima varietà su cui noi ci dobbiamo o possiamo impegnare nella trasformazione coltivazione bonsai ecco quindi altrimenti non ha senso non ha senso ok premesso ciò premesso ciò in questo periodo allora io ho tutto l'anno effetto rinvasi tutto l'anno primo perché è un tipo di attività che faccio da da tanto tempo da tutta la vita da 30 anni sono 30 anni che faccio che gioco con le radici delle piante tutto l'anno secondo sono agevolato dalle temperature della mia zona d'estate è molto più difficile quindi d'estate si interviene solo nel caso in cui ci sia un estremo bisogno di fare un rinvaso come pure chi abita in zone molto più fredde della mia suggerisco rinvaso o di anticipare oppure se ti rendi conto ciao ines ciao a tutti se ti rendi conto che urge un rinvaso su una pianta e vivi in una zona molto fredda devi per forza di cose riparare riparare la pianta ok per forza altrimenti non lo fai ma poi se non hai se vuoi fare bonsai a livello abbastanza se vuoi arrivare a un livello abbastanza alto devi escogitare tutte quelle tecniche che ti permettano di poter gestire le piante in ogni momento dell'anno quindi non subire le variazioni climatiche ma andare a favore delle variazioni climatiche io in questo momento vado a favore delle variazioni climatiche perché in questo periodo mi dedico ad un sacco di rinvasi più o meno invasivi ovviamente le piante poi non sono messe al al vento mai quindi in qualsiasi periodo sia la pianta poi non è esposta a forti venti perché il vento di si tratta è una pianta appena rinvasata che il rinvaso sia più o meno drastico è sempre una pianta che ha bisogno dei suoi minimo 15 giorni per potersi riprendere minimo dai 15 giorni ai due mesi questo è il tempo fisiologico fisiologico ok quindi oggi allora questo periodo stiamo trattando il pino d'aleppo una conifera pini d'aleppo da campo quindi mi voglio riallacciare anche al discorso di un posto che ha fatto la tatiana oggi poco fa dove diceva che chi chi ha tanti come me tanti gli amadori come me bisogna far capire ragazzi la raccolta non è una cosa facile la cosa più difficile da fare quindi il consiglio mi è stato proprio chiesto questo praticamente tu che consigli ai neofiti di che ci sono tante maniere di far bonsai non solo quella di raccogliere in montagna assolutamente la tecnica di raccolta in montagna è la più difficile il modo più difficile per iniziare il modo più facile per iniziare è quello che comunque facciamo che facciamo da tanto tempo che faccio da tanto tempo è quello di il seminare di far tale di far margotte di comprare in vivaio di comprare anche pre bonsai o bonsai da persone che abbiano coltivato bene e quindi se notate quando si fa un posto io voglio sempre vedere chiedo sempre di svasare la pianta voglio vedere come sta di radici perché bisogna sapere far bonsai significa coltivare 365 giorni all'anno impostare una pianta lo fai quando non sei professionista lo fai una volta all'anno se va bene una volta l'anno ogni due anni anche l'impostazione quindi la cosa fondamentale è la coltivazione ok fondamentale che se vuoi ottenere grandi risultati sulla chioma devi fare grandi lavori cioè lavorare un gran bene sulle radici e non è una questione di cosa noi spruzziamo tonino guaracino benvenuto mi fa trovo piacere mi fa molto piacere salutate tutti tonino che è guarito dal covid allora tonino vediamo un po c'è ancora e tonino ha dovuto utilizzare per forza l'ossigeno perché altrimenti altrimenti non lo non dico niente ha dovuto per forza usare l'ossigeno e stare tanto tempo in terapia quindi mi fa molto piacere che sia in diretta del special guest ancora no ancora positivo mamma mia quindi voglio posso posso dirle una cosa sul codi sul covid una cosa che mi pare molto molto giusta molto ragionata c'è chi dice che non esiste e vabbè c'è chi dice che che esiste ma non succede nulla e vabbè vanno bene tutte le opinioni c'è solo una cosa una cosa che io faccio io non ho pensato esiste o non esiste io ho pensato una cosa che se sto attento alle norme igieniche minime faccio sì che chi viene a contatto con me non possa mai essere intubato e io stesso sincero non vorrei mai essere intubato quindi è solo per questo motivo questo è l'unico il motivo più grande facciamo così per cui uno debba utilizzare la mascherina disinfettarsi le mani e stare attento ok secondo me questo è il più grande motivo il non essere intubato né io negli altri perché da lì quella non te la scampi se stai positivo e sei grave viene intubato non c'è altro da dire non c'è ci credo non ci credo qualsiasi cosa tu creda se sei positivo viene intubato per forza non scampi ed è anche una una cosa buona chiusa parentesi abbraccio bracciotonino tantissimo sono molto felice molto molto felice pino d'aleppo pino d'aleppo allora si presentava bellissimo pino d'aleppo da seme non ha tanti anni è la sua posizione è quella di leggermente incascata ecco così dovrà essere questa vedete che sto inquadrando in maniera differente ok invece questa è la posizione in cui l'aveva messa michele però non mette abbastanza in evidenza secondo me le caratteristiche della pianta e poi il tronco risulta orizzontale allora bisogna che sia inclinato è spostato leggermente in avanti così in questa maniera la chioma va a coprire leggermente quel tratto di tronco dritto è chiaro vedi così sarà messo in evidenza questo gomito allora su questo vaso qua su questa pianta qui scusate massimo avoglio quando le fare alle 19 allora farò le dirette alle 19 quando sarò pronto qui sono ancora nello nel vecchio studio quando sarò pronto il nuovo studio ci vuole tempo ci vuole tempo verso un sacco di lavori da fare nel giardino nuovo ma tantissimi e anche lo studio va preparato quindi quando avrò l'impianto di illuminazione adeguato e le tecniche adeguate a poter fare dirette dalle 19 mal che vada che la guardi indifferita dopo alla fine ricordate mi che devo dire due cose molto importanti per cui oggi è una mezza festa una mezza festa per tutti allora io proseguo nel lavoro per poter fare questo lavoro qui aspettate che avvicino un po vi faccio vedere anche la piantina pianta da seme quindi anche che da seme riusciamo ad ottenere dei risultati allora c'è una c'è qualcosa c'è qualche lavoro da fare qui che sarebbe quello faccio vedere che sarebbe quello esempio dove qua abbiamo tante gemme una due tre tre in questo momento si scelgono anche le gemme da tenere quindi abbiamo un sacco veramente tante quindi questo è il momento della pulizia delle gemme cioè lasciamo solo quello che ci serve alla coltivazione ok queste sono giuste qui ce n'è due quindi lasciamo andare le gemme svilupparsi tutte a due a due qui ce n'è una piccoletta all'interno tenendo il va il telefono non riesco queste sono almeno tre quella di sotto la eliminiamo ok quindi ne lasciamo due appaiate questo è molto importante questo è un tipo di lavoro che si fa anche sui pini tumbergi in questo in questo momento su tutti i pini è un lavoro che dovreste fare su tutti i pini ok vedi anche qua abbiamo tre gemme togliamo quella centrale ce ne sono poche poche da togliere voglio passare al rivaso a riposare posizionamento mi devo avalontanare la camera così non è male marco fazzone questo periodo possiamo portare un ramo che non serve al disegno supino d'aleppo certo che si sì sì ok buon 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 oh ecco qua molto bene ecco il pisco c'erano delle pieghe come si può vedere la pianta sta lavorando e 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 vediamo se riesco avvicinare l'inquadratura a Grazie. 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 Anche adesso, visto, c'è un po' di presenza di micorriza, pochissima, come voglio che sia, la micorriza deve essere sempre una quantità minima, mai tanta, e qui ce n'è una, insomma, è visibile. Ricordiamoci che la micorriza, nonostante sia utile alle piante, non è necessario che noi la diamo, almeno nella cultivazione biologica, non la diamo perché si forma da sola. E' questa. Qui c'è un po' di terra di campo, che va a dare fastidio in coltivazione, e va un po' a tappare. Ok, quello che voglio fare è, guarda che bella è una bardula, è praticamente intatta. Ovvio. È usare un po' l'aria compressa per pulire. Ecco. Ecco. prepariamo il vaso da Napoletta devo riuscire a mettere tutto con un filo soltanto quindi faccio le mie prove prima la pianta era posizionata in questa maniera ora dovrò metterla un po' più inclinata per metterla inclinata in questa maniera il punto in cui tiene di più è questo quindi penso che possa bastare un filo abbastanza grosso così possiamo tirarlo un po' più inclinata un po' più inclinata sul fondo metto un piccolissimo leggerissimo strato di di bardula granometria 5 9 mm veramente leggero il restante sarà 35 restante granulometria 35 millimetri proviamo la nostra piantina non voglio sbagliare la rinclinazione non voglio sbagliare 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 non voglio non voglio sbagliare 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 un po di rami diminuirli sono tantissimi l'importante aver fatto un buon invaso è che dreni dreni perfettamente non drenava più la posizione della pianta è leggermente di traverso rispetto al vaso così viene verso l'osservatore ok così allora io ho fatto belle sono molto contento avete visto quante radici ho tagliato veramente poche c'era un livello di c'era un po di micorriza poca è giusto è giusto è sbagliato quando lo vedete carica completamente piena di micorriza devi sapere che la micorriza meno circola aria più si sviluppa quindi va a compattare sempre già già circola meno aria in più tende anche a compattare ulteriormente il tutto ok quindi insomma la micorriza va bene però è un po se ci sono tonino guaracino molto rustica sì grazie angelino non so cosa dici michele se ci sono candele sono le prime a muoversi allora questa pianta non si è mai fermata neanche adesso è ferma avete visto che c'era dell'attività radicale ma anche a livello di di germogli sta andando sta andando in produzione un valerio giannini l'aria possa in qualche modo asciugare troppo qualche capillare valerio giannini può asciugare qualche 123 capillari ma dentro la pianta ne ha qualche centinaio quindi è meglio è il lavoro che ho fatto addirittura questo tipo di adesso il compressore piccolino non aveva più aria avrei continuato a togliere terra dalla parte superiore avrei continuato ma si sarebbe dovuto attaccare il compressore e non va bene lo faremo dopo lo faremo dopo si può fare un momento successivo già messo in vaso era già in vaso bonsai giovanni liguori questa è una pianta che deve compattare deve fare gli aghi più corti possibili e vegetale più indietro possibile sto scorrendo i messaggi come si capisce su un pino sia gradito il rinvaso se continua a vegetare e poi questo tipo di rinvaso è molto semplice avete visto non è che io abbia fatto chissà che cosa hanno tagliato nulla si trovava già in bardula va bene no giovanni liguori e vabbè adesso chi è piccolo yama il tuo insegnamenti tutti questi no 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 esempio da te dovrebbe smettere no 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 allora allora ci tengo a dire una cosa piccolo yama innanzitutto sarebbe bello che tu avessi nome e cognome scritto sotto e non piccolo yama bello piccolo yama però sai com'è in più noi e io ho formato questo gruppo per lavorare sulle piante non sono uno psicologo non sono uno che deve cambiare le persone non mi interessa che gli altri cambino o meno mi fa piacere se qualcuno mi dice prendo esempio da te è un onore è un onore però nel nostro gruppo non sono accettate critiche nei confronti degli altri abbiamo cancellato un post proprio ieri perché ci si è spinti un po troppo a criticare altri professionisti il nostro gruppo non è fatto per criticare le persone nostro gruppo è fatto per imparare tutti quanti anche io sto imparando molte cose imparare a coltivare alla perfezione perché poi metter su il filo e impostare una pianta è una cosa che si impara in tre giorni tre giorni se tu fai tre giorni con affiancato da un grande maestro giapponese a far piante a tiraggio piante ha imparato a far tutto tutta la modellatura che puoi fare su una pianta ha imparato a farla a coltivare ci vogliono anni per imparare a coltivare invece servono molti anni quindi quello che facciamo nel nostro gruppo più di più di ogni altra cosa è imparare a coltivare al meglio e a sfruttare o a gestire al meglio il clima esterno ma anche i microclimi all'interno del nostro giardino e poter usufruire della bellezza della natura e andarle incontro andare a favore senza usare veleni ma al contrario quello che cerchiamo di fare esattamente l'opposto con i tempi è meglio è michele c'è ragione però è un pugnetto è un pugnetto dai fosse stata tanta si non si smette di imparare mai visto nessuno usare l'aria compressa per pulire il pane radicale io io invece l'ho visto da qualcun altro è qui qui voglio dire una gran cosa molte cose che io faccio le ho viste da altri viva isti neofiti ma anche la coba yashi coba yashi a un a un compressore piccolo come il mio in laboratorio e capita che usi l'aria compressa per soffiare via la polvere dalle zolle esattamente quello che ho fatto io adesso quindi quello che voi vedrete e ciò che avviene anche nel giardino di coba yashi ok ragazzi nel giardino di coba yashi non si usano fitofarmaci usa solo liquido gin una volta all'anno il resto è tutta coltivazione tutta lui non si promuove come bio perché è normale che si faccia così quindi nessuno nasce nessuno nasce con la sapienza fratello più giovane di stefano sarei io sì penso che adesso ci sarà un periodo in cui mi vedrete sempre con la barba così perché mi ero stufato dalla barba a me non piace la barba lunga proprio non mi piace a chi non piaccio così cambi canale a proposito a proposito ho visto pulire con acqua cento bar un mello grano si coba yashi pulisce con l'idro pulitrice le azalee quando deve le azalee da campo via tutto con l'idro pulitrice criticato non volevo non ti preoccupare no non ti preoccupare puoi parlare ma parliamo di piante non parliamo di persone i gossip li lasciamo ai riviste e agli altri gruppi modesto re davidad fa molto pa male la polvere nella zola radicale beh meglio toglierla possibilmente meglio toglierla importante gabriela borio i bonsai che ho in terrazza noi qua torino siamo a tre sotto zero di notte toccando il terriccio è sempre umido si innaffia quanto allora se è umido non annaffiare ma ricorda una cosa che a zero gradi i funghi non fanno il loro non proliferano quindi anche se la zola rimane umida per dieci giorni per venti giorni per un mese a quelle temperature i funghi non proliferano quindi non avrai sicuramente attacchi fungini ok per questo e gli attacchi fungini per questo abbiamo tutti quanti ci sono problemi possiamo avere problemi di funghi con le alte temperature nei vasi e lì sì che si sviluppano muffe funghi dai 25 30 gradi ma quando tu hai una zola che sta a tre gradi a cinque gradi ma anche a 10 se sta umida anche per una settimana non è un problema occhio occhio che a tutte queste cose allora due cose importanti oggi festeggiamo i abbiamo superato i 3000 il 14 marzo quando io iniziai a fare le dirette ancora non pubblicavo subito bonsai avevo un c'erano mille un migliaio di iscritti non si chiamava neanche bio bonsai un migliaio di iscritti quando siamo usciti dalla pandemia eravamo 2000 quindi dal momento in cui siamo usciti dalla pandemia ad oggi siamo aumentati ancora di mille circa mille persone circa 100 persone a settimana si scrivono su bio bonsai 100 persone a settimana quindi scusateci se a volte veramente anche se siamo io riana enzino orazio che rispondiamo a volte non si riesce a star dietro a tutti i post seconda cosa è stato fatto un canale youtube andate ad iscrivervi perché in questa maniera stiamo inserendo tre video al giorno di più non si può anzi enzino quindi quindi ringraziamo tutti quanti enzino usa una sola mano enzino lui si sta dedicando a creare ha creato il canale youtube bio bonsai con le mie dirette quindi quando ci saranno tutte non bisognerà andare a cercare nel gruppo andare a mettere parole chiave nella nella funzione cerca quindi iscrivetevi al canale youtube dove sono caricate tutte le dirette fantastico in sino tanti auguri a tutti quanti siamo 3000 già superati ieri ieri una trentina di iscritti veramente tanti leonardo fedi video lezione ti ho fatto una domanda prima rifalla veloce non lo vedo non l'ho vista rifalla veloce quando è così non chiedere neanche visto che non ho risposto rimetti riposta la domanda comunque me la posso guardare te la malsò mettere per iscritto se non fai a tempo si youtube bella cosa super enzino ecco lei ha messo il link è bravo era pronto era pronto quindi c'è il canale youtube dove ci sono solo le dirette adesso a quest'ora saranno una quindicina figo grazie devo dire grazie che tutti splendidi tutti splendidi andiamo avanti parliamo a coltivare facciamo ci divertiamo guarda che carina guarda ci divertiamo continuiamo a divertirci parliamo di piante non di persone quello non ci interessa oggi un riflettore si leonardo dai dopo guardo me le guardo tutte e risponderò allora ci vediamo mercoledì facciamo un'altra diretta sempre alle 16 o dovrei avere forse avrò un pino d'aleppo dal campo oppure sempre un pino d'aleppo e facciamo impostazione vediamo io farei un altro rinvaso e poi le impostazioni il momento successivo così quando faremo anche le caricheremo su youtube ci saranno proprio pino d'aleppo con tutte le cose alla fine diventa una una sorta di tutorial non è male non è male nell'arco di un anno si perdono tanti lavori abbiamo fatto anche la semina di pini d'aleppo quindi e questa pianta qua era da seme sono sono felice di essere riuscito nell'intento di poter fare un gruppo dove si parli di coltivazione biologica ecco il mio intento è insegnare se così si può dire o tramandare tutto quello che imparato a di neofiti per far sì che i neofiti siano sicuri nella coltivazione perché il design è una cosa molto personale invece la coltivazione una cosa molto difficile da imparare design o l'artisticità uno ce l'ha o non ce l'ha si impara anche quella ma la coltivazione la cosa più difficile in assoluto da apprendere in assoluto grazie a tutti a mercoledì ciao